Se sei un utilizzatore di fotocamere mirrorless con sensore APS-C ho delle notizie sensazionali per te per cui si editi comodo e goditi questo video. Sembrerebbe ufficiale amici e di poche ore fa l'annuncio che Canon e Sigma hanno finalmente trovato un accordo per la produzione di ottiche di terze parti per il sistema RF. Quindi sono in arrivo delle ottiche di terze parti per le mirrorless di casa Canon. Poi non lo sappiamo magari queste ottiche verranno convertite con la monta anche per altri brand perché poi Sigma ogni tanto fa anche queste cose ma questo potrebbe essere un accordo blindato. Quindi queste ottiche in arrivo per il momento e forse anche in futuro sono destinate a essere utilizzabili solamente su fotocamere Canon con sensore APS-C. Andiamo a vedere nel corso di questo video che cosa ci propone Sigma ma prima io vi devo ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché una notizia come questa non volevate perdervela. E quindi il bottone rosso sta subito qui sotto in secondo luogo io vi chiedo un like a questo video per darmi una mano a crescere su YouTube per farmi capire che vi ho portato una notizia che vi interessava. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare mi occupo di fotografia per le aziende però tengo sempre l'occhietto aperto per vedere se arrivano delle novità e in diversi mi avete fatto notare questa notizia che avevo già visto anche sui social perché comunque ogni tanto li apro quindi la notizia mi era passata davanti. Oggi andiamo a vedere quali lenti sono state annunciate e vi dirò di ciascuna che cosa ne penso. Andiamo a vederle una per una la prima in cui mi imbatto la prima dichiarata da Sigma è un 18 50 mm f 2.8 chiaramente stiamo parlando di un'ottica che si colloca nel range di un kit lens. Quindi è una sostituta per la lente kit che ci danno normalmente quando compriamo la fotocamera normalmente ci danno un 18 50 che però è f 3.5 f 5.6 quindi è molto più buia per cui Sigma con questo obiettivo ci sta dando uno zoom standard per apsc con un'apertura fissa di 2.8. Niente male niente male davvero bisogna vedere le caratteristiche ottiche soprattutto bisogna provarla sul campo vedere come regge la messa a fuoco eccetera e come sono le performance a livello ottico su tutte le focali e a tutti i diaframmi perché questo non ho ancora modo di saperlo. Però quest'ottica potrebbe essere una sostituta per il glorioso 17 55 f 2.8 che ho utilizzato per anni sulle mie fotocamere con sensori apsc da quello che posso vedere dalle immagini che sono state rilasciate quest'ottica è molto piccina considerato il range che ha quindi la trovo una cosa interessante sono riusciti a dare tutta questa luce a un'ottica che costruttivamente è molto più piccola del del 17 55 che è un'ottica voluminosa è piuttosto grossa. Qui sono riusciti a tenere le dimensioni molto più compatte. Seconda ottica che è stata annunciata e questa mi interessa un pochettino di più è il 10 18 f 2.8. Perché vi dico che mi interessa di più? Beh perché personalmente con tutte le cose che faccio soprattutto in ambito fotografia di interni avere un'ottica del genere a f 2.8 a me fa gola subito. Un 10 18 su un sensore apsc diventa più o meno l'equivalente del mio 16 35 su full frame come angolo di campo. È un'ottica che trovo molto interessante e oltretutto è un'ottica da f 2.8. Quindi su un sensore apsc che soffre un pochino di più del full frame le situazioni in cui c'è meno luce con un 2.8. ragazzi ce la giochiamo alla pari. Poi c'è da dire una cosa. Rimango dell'idea che le ottiche canon full frame quindi il 16 35 il 14 35 credo che avranno delle performance ottiche superiori rispetto a una lente come questa. perché dietro alle ottiche canon di serie L c'è più studio più ricerca e sviluppo e quindi te le fanno pagare di più ma poi performano anche meglio. Questa è un'idea mia. Bisogna poi vedere. Sono comunque dell'idea che un'ottica del genere questa proposta da sigma sia molto interessante perché ci permetterà di avere la stessa cosa su un sensore apsc seppure a parer mio con una performance ottica un pochino inferiore ma neanche tanto. e bisogna vedere poi se inferiore a tutte le focali e a tutti i diaframmi e di quanto inferiore perché la differenza potrebbe anche essere poco percettibile e a quel punto spendendo meno potremmo avere esattamente la stessa cosa sul sensore apsc che è un sensore che costa meno possiamo avere una fotocamera più economica e ottenere la stessa cosa. quindi questo nuovamente è molto interessante. Procediamo e abbiamo un 16 mm f1.4. Interessante ragazzi interessante un 16 mm adesso bisognerebbe fare il rapporto di conversione però a occhio e croce diventa un 26 25 una roba del genere. non me lo ricordo cosa diventa su apsc bisogna moltiplicare per 1.6 io in matematica sono una capra però è un'ottica interessante perché ha un'apertura di f1.4 e un'ottica del genere su apsc ci permette di fare un bello sfocato ci permette di scattare fotografie anche quando c'è poca luce. interessante molto interessante poi anche qui bisogna vedere perché tu mi dichiari f1.4 bisogna vedere la performance ottica perché se tu mi dichiari 1.4 io la prendo pensando di poter usare quell'1.4 chiaro se io lo prendo e poi a 1.4 è pieno di aberrazioni cromatiche è pieno di difetti ottici lì è un po' un problema bisogna capire questa cosa bisogna vedere come viene sviluppata questa lente non ho motivo di pensare male ci sto solo ragionando sopra se a f1.4 performa bene è una bombetta se a f1.4 performa male poi mi dici eh no però la devi chiudere a f2.8 per avere una performance decente e poi da lì in poi performa bene questo è un peccato perché io la prendo per quell'1.4 e poi invece non lo posso usare perché sennò ho una serie di difetti che mi tengo sulle foto questo sarà interessante da scoprire lo vedremo quando usciranno tutte queste belle ottiche ma continuiamo e abbiamo un 23 mm f1.4 molto interessante e lo sapete perché? molto interessante perché un 23 mm moltiplicato per 1,6 ho preso la calcolatrice non ci ho sbatti di farle a mente abbiate pazienza io qui parlo di fotografia non di come fare i calcoli un 23 mm moltiplicato per 1,6 diventa un 35 mm quindi abbiamo per le mani un 35 mm f1.4 bello bellissimo questo mi fa veramente tanta gola poi anche qui bisogna vedere le performance ottiche tutto quello di cui abbiamo già parlato stesso identico discorso bisogna vedere la messa a fuoco come funziona lo stabilizzatore se funziona bene dichiarano che funzioni bene quindi non ho motivo di dubitarne bisogna vedere tutte queste cose però come focale è molto interessante perché qui Sigma se l'è studiata bene Sigma ha fatto delle lenti e tu dici ma è strana sta roba perché 23 mm che è sta roba si sono studiati il rapporto di conversione per avere il 35 effettivo sul sensore aps più o meno è un 36 però cavolo siamo maledettamente vicini si sono studiati il rapporto di conversione per avere delle ottiche che abbiano una resa molto molto vicina alle ottiche codificate per full frame e questo è molto interessante io per esempio sono abbastanza legato alle lunghezze focali nel senso se tu mi parli di 35 mm è una lunghezza focale ben precisa si usa per determinate cose si usa tanto nel cinema per esempio si usa tanto in certi tipi di ritratto se tu mi dici facciamo quella roba lì col 35 è quella roba lì col 35 se io la devo fare con apsc e quindi mi devo ricordarsi allora per fare l'ottente devo stare a 22 e mezzo faccio fatica se mi codifichi un'ottica fissa che mi restituisce esattamente quel rapporto lì io sono più contento perché a quel punto so che quando monterò quell'ottica avrò effettivamente quella lunghezza focale quell'angolo di campo poi è sempre una conversione però è quanto più vicino possibile posso arrivare a quella lunghezza focale effettiva su un sensore apsc che mi restituisce un rapporto diverso è quanto di meglio si può fare per avvicinarsi a quel rapporto finale abbiamo poi attenzione un 30 mm f1.4 anche questo è maledettamente interessante ragazzi perché questo diventa un 48 per cui praticamente un 50 è molto raro avvicinarsi così tanto ecco le ottiche della casa e tu magari dici va bene prendo il 35 e però il 35 non è un 50 è un 56 e mezzo quindi questo qui con un 48 si avvicina di più nuovamente sigma se l'è pensata bene si sono avvicinati di più al rapporto canonico puro e quindi questo nuovamente è parecchio interessante poi bisogna vedere a che prezzo esce bisogna vedere a che prezzo esce perché mi pare mi pare di aver sentito che canon annuncia dei 50 mm per per rf quindi bisogna vedere se adesso canon copre tutta la fascia e quindi ti fa il 50 mm da 180 euro il 50 mm da 500 euro il 50 mm che conosciamo già da 3.000 e passa euro quello con l'anello rosso bisogna capire quest'ottica come fascia di prezzo dove si colloca perché se si colloca e probabilmente si collocherà a metà secondo me potrebbe costare 500 euro un'ottica del genere quindi si colloca come diretta rivale di un 50 mm f1.4 e quindi si colloca in quella fascia lì per cui dovremo capire se ci conviene comprare quello di sigma o se ci conviene comprare quello di canon scusate io ho detto 50 mm nel caso di APS-C se vogliamo più o meno quel rapporto il 35 che sto usando io in questo momento quindi quest'ottica se stiamo lavorando su APS-C si colloca nella fascia del 35 che sto usando adesso abbiamo un 30 abbiamo un 35 bisognerà capire a seconda della fascia di prezzo e a seconda di quanto ci interessa il rapporto io per esempio ho preso il 35 e lo rifarei perché questo è un 35 che mi dà anche la macro un 35 che mi piace molto quindi io rifarei questa scelta uguale bisogna vedere in che fascia di prezzo si collocherà questo 30 mm perché potrebbe essere un deal breaker e potrebbe essere molto interessante ultima lente che è stata annunciata è un 56 mm anche qui secondo me se la sono studiata perché risulta essere un 90 diventa l'equivalente di un 90 mm questo è interessante perché si è vicino all'85 però un pelino di più e questo è interessante perché potrebbe darci qualcosina di più in termini di sfocato comunque è una lente da ritratto secondo me è una lente da ritratto da lì non si scappa sono è una line up interessante sono delle ottiche interessanti adesso dobbiamo aspettare che arrivino perché ancora non ci sono io qui trovo riportato sul sito di sigma che il lancio è previsto per il 1850 è previsto a luglio di quest'anno mentre per tutte le altre ottiche si parla dell'autunno sempre di quest'anno quindi dobbiamo aspettare un pochino adesso probabilmente gireranno i prototipi magari li stanno mandando in prova in testa qualcuno però arriveranno dobbiamo solo aspettare un pochino e arriveranno sono state annunciate quindi la ricerca e sviluppo dovrebbe essere quasi terminata e arriveranno presto sugli scaffali dobbiamo avere un po' di pazienza a questo punto però vi chiedo fatemi sapere se una di queste ottiche in particolare ha catturato la vostra attenzione se siete utilizzatori di APS-C se ce n'è qualcuna che state già pensando di farvi cascare nel carrello della spesa fatemelo sapere qui sotto nei commenti vi ricordo anche di scrivervi perché se mi fate delle domande io vi rispondo qui con degli shorts verticali se vi scrivete adesso poi non ve li perdete io vi sconsiglio di scrivermi altrove lo dico sempre vi sconsiglio di scrivermi su altri social perché se mi scrivete da un'altra parte io non leggo li apro una volta al mese per cui se mi scrivete su instagram sono nei guai sono al matrimonio di mia sorella mi sei inceppata la macchina cosa faccio io vi rispondo che il matrimonio è già belle che è finito invece se mi scrivete un commento qui rispondo più rapidamente e oltretutto rispondo anche a volte con un video quindi è meglio se mi scrivete qui detto questo amici io non mi voglio dilungare troppo le notizie ve le ho date è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video iscrivetevi al canale